Preoccupa il balzo improvviso dei nuovi contagi e delle nuove morti causate dalla pandemia. Sono infatti 6.562 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nell'ultime 24 ore, 5.388 in più rispetto ai dati resi noti ieri. Ma a salire drammaticamente è anche il numero dei nuovi decessi. Sono infatti 21 le vittime registrate nell'ultima giornata. Il bollettino regionale porta così il totale degli infetti a quota 2.573.755 e a 16.025 i decessi dall'inizio della pandemia. Cala invece il dato relativo agli attuali positivi, che sono 61.757, meno 76. In lieve decrescita l'occupazione dei reparti ospedalieri, con 1.505, meno 4, pazienti in area non critica e 64, più 2, in terapia intensiva. Rimane al primo posto nella regione Veneto, per numeri di contagi, la provincia di Padova, che cresce ancora con numeri che si avvicinano rapidamente a quota 13.000. Sono infatti 12.839 gli attuali positivi, di cui 1.379 tracciati solo nelle ultime 24 ore.